Le aggressioni, sempre più frequenti in Italia, medici e infermieri spingono anche la ASL, una, Bezzano, l'Aquila e la Sulmona ad aggiornare il proprio regolamento e a dire sì al sistema di videosorveglianza per la sicurezza del personale e del patrimonio degli ospedali. Questo per evitare furti, aggressioni, danneggiamenti e atti di vandalismo. Un sistema che sarebbe attivo, quindi, durante le ore lavorative. Manca soltanto un piccolo passaggio, il sede e sindacati. Il regolamento prevede che la ASL possa anche mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria video per la prevenzione o l'accertamento di reati. I luoghi scelti per le telecamere saranno quelli più frequentati e a rischio o più isolati. Ovviamente solo gli operatori autorizzati potranno visionare le riprese video per gli obiettivi che sono stati indicati nel regolamento stesso e la conservazione delle immagini, come da prassi, sarà di 48 ore. Nel regolamento si legge pure che le immagini dovranno essere registrate per i fini stabiliti, soprattutto quello per la sicurezza di medici o infermieri e solo quelle indispensabili, limitando quindi l'angolo della visuale, evitando immagini dettagliate o non indispensabili comunque al raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Ovviamente essendo questo un tema molto delicato, perché possono essere ripresi dal sistema di videosorveglianza anche pazienti e operatori, la modifica del regolamento dovrà incassare, come si diceva, per passare il sì delle sigle sindacali. Un provvedimento questo importante perché mira pure la sicurezza del personale sanitario, sempre più oggetto in tutta Italia, di aggressioni, ma spesso gli ospedali sono anche preda di molti furti in corsia. Con questo provvedimento si cerca quindi di limitare i danni in questo senso.